E' un premio molto importante per gli Europe, sono con Massimo Nalli che è il presidente di Suzuki Italia, intanto siamo felici di essere qui e siamo felici che Suzuki abbia sposato il progetto Arena 607080 con questo titolo bellissimo, Arena Suzuki 607080 e questo premio meritato per gli Europe. Siamo onorati, onorati di poterlo fare, Suzuki sceglie di premiare gli Europe perché è 40 anni che ci accompagnano e 40 anni che attraversano epoche, attraversano mode e stili ma restano fedeli a loro stessi e questo ci insegna che... Grazie per la visione!